L'esecutivo europeo ha ritirato le linee guida sulla comunicazione appena varate che invitavano tra le altre cose ad evitare riferimenti al Natale e ad augurare piuttosto buone feste. Lo scopo era illustrare la diversità della cultura europea e mostrare la natura inclusiva della Commissione, ha annunciato Elena Dalley, commissaria all'uguaglianza, che aveva patrocinato l'iniziativa. Tuttavia, la versione pubblicata delle linee guida non è funzionale a questo scopo. E il suo gesto, oltre a far tirare un sospiro di sollievo ai cattolici europei, ha innescato l'esultanza di tutto il centrodestra italiano. La bufera che si è abbattuta sulle nuove linee guida non era circoscritta solo a Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. In mattinata, anche il segretario di Stato della Santa Sede, Cardinale Pietro Parolin, era stato molto critico. Eppure, non è certo contro la Chiesa Cattolica che la Commissione intendeva andare, ma qualcosa a Palazzo Berlaymont è andato storto. Innanzitutto, come ha sottolineato il portavoce della Commissione, Eric Mammer, si trattava di un documento interno focalizzato sul linguaggio da utilizzare senza alcun valore legale o implicazione per gli Stati membri. L'obiettivo era riflettere le diversità che abitano l'Unione Europea, ma deve essere fatto nel modo giusto, ha chiusato lo stesso Mammer.